Salve a tutti, Marco Casario qui, benvenuti a questo nuovo video e continuiamo un po' a parlare di alcune opportunità che si stanno verificando sul mercato. Qui siamo sul mercato azionario ragazzi per questo percorso di live trading per beneficenza, così l'ho chiamato. Questo è uno dei video che fa parte di questa serie nella quale appunto faccio trading con un unico obiettivo, quello di avere delle performance e dei profitti ma che verranno devoluti totalmente in beneficenza. Quindi cominciamo con il mercato azionario, sarà uno dei mercati che sicuramente utilizzerò molto per vari motivi ragazzi perché il mercato azionario mi permette un money management molto più sicuro, il mercato azionario è anche un mercato che a parte la volatilità e ovviamente per certi titoli, non parlo di titoli che hanno un valore estremamente elevato, ma per alcuni titoli posso permettermi di soffrire di un profilo di rischio più alto soprattutto se conosco i fondamentali dell'azienda, del sottostante. E qui c'è proprio il classico esempio, siamo su BAD, azienda gruppo enorme belga che ha sede, è una multinazionale ormai a Neuser Busch credo si pronunci e fatto sta che l'azienda la segue e conosco i fondamentali, del resto mi sono vicini di casa, stanno in Belgio, io sono qui in Olanda. Che cosa è successo qui? Allora guardate c'è stato questo gap molto profondo che mi aveva già fatto scattare un alert ed ero stato in ascolto di questi valori. Qui si era formato che cosa? Guardate, spalla, testa, spalla. Questo è un bellissimo pattern di inversione della tendenza, ok? Ed è un testa e spalla, ormai lo conoscete se seguite il mio canale, è uno dei pattern di analisi tecnica preferito. Vi faccio vedere che è stata rotta la neckline proprio qualche tempo fa. Avevo perso questa rottura, vi dico la verità, ma il prezzo, a volte il mercato ci dà la possibilità di una seconda entrata, sta ritracciando sulla neckline. Ora, qui, che cosa, qual è qui l'idea? L'idea è che siamo in un, sicuramente siamo in un momento di, in cui il prezzo, insomma non serve un esperto per dirvelo, ma vedete quanto è sceso. E ha toccato questo bottom qui a 64 dollari, ok? E si è formato questo, questo, come si dice, questo pattern di analisi tecnica di inversione della tendenza, appunto il testa e spalle. E dopo questo gap, qui si è formata una isola, così, dove il prezzo è rimasto dentro, e poi infine ha rotto. Qui c'è la media 200 periodi, media a cui dobbiamo fare sicuramente attenzione. Ma vi faccio vedere, a parte la media 200 periodi, quali sono le altre strutture. Allora, questa è appunto la struttura della media 200 periodi, poi c'è questa, e poi c'è questa. Quindi queste sono un po' le strutture che potrebbe incontrare il prezzo. Fatemi fare un po' di zoom, perché vi spiego un po' qual è la mia idea qui. Qui vedete che il, vi traccio anche questo impulso qua. Guardate questo impulso, dallo swing low allo swing high, vedete che il prezzo è risceso intorno ai 0,50 come livello di Fibonacci, e poi ha iniziato, che cosa? Questo secondo impulso, che ha rotto i massimi precedenti, e mi ha rotto pure questa neckline. Ok, il prezzo adesso sta leggermente ritracciando. Rimango qui sicuramente con una visione rialzista, almeno per i fondamentali di questa azienda. Vediamo entrando a questi prezzi qui, quanto mi posso permettere dal punto di vista di money management di gestire. Allora, considerate che qua entrerei a 80 dollari, giusto? 80 dollari vuol dire che se faccio il meno 1%, vi sto facendo le regole, l'ABC del money management, ok? L'1% di 80, quant'è? È 0,8, ok? Perdo 0,8 cent ogni centesimi ogni volta che il titolo scende dell'1%. Perfetto. Se il mio profilo, sapete il mio capitale attualmente per fare questo live trading è di 10.000€, quindi il mio profilo di rischio solitamente è l'1%, a parte per alcuni sottostanti di cui parleremo poi più avanti, quindi vuol dire che è 100€. Quindi mi posso permettere di perdere quanto? Di perdere circa, diciamo, 8 dollari, quindi il 10, 10, 12%. Quindi ho uno stop loss, che cosa vuol dire? Guardate, vi faccio vedere. Da qui a... Eccolo qui, qui sotto. Perfetto. È esattamente dove infatti vorrei posizionare il mio stop loss, sotto a questo ritracciamento qua, ok? Che corrisponde anche alla seconda spalla del mio testa e spalle. Con l'ipotesi che il prezzo possa continuare. Questa potrebbe essere un'operazione di lungo termine. Diciamo che il mio primo take profit, ve lo faccio vedere dove lo vado a posizionare il mio primo take profit, lo vado a posizionare tra il livello 127,2 e il 161,8. Vorrei essere... vorrei in realtà stare sotto ai 90 dollari, che è una soglia psicologica importante, e quindi diciamo che lo potrei mettere leggermente sopra il 127. Quindi questa potrebbe essere la mia operazione. Andando long qua, con un... eccolo qui, qui intorno... Questo potrebbe essere il valore 88, potremmo metterla 89, stop loss qui in basso. Il mercato azionario, ragazzi, ovviamente ci permette che cosa? Ci permette di gestire meglio il money management, proprio per il discorso che avevo fatto prima, no? Anche perché un'azienda, se conoscete i fondamentali, che possa perdere in poco tempo il meno 10%, può succedere, perché l'abbiamo visto, guardate qua che cosa è successo. Gap, grossa discesa, qui l'azienda ha perso più anche del 10%, credo, o forse giù di lì, 18%, quindi può assolutamente succedere, ma può succedere in una finestra temporale più ampia. Quindi faremo azioni, faremo anche trading sul mercato azionario, perché è interessante. Intanto questa è un'operazione che ci portiamo a casa. Seconda operazione, spread trading, petrolio. Guardate un po' che cosa ha fatto il petrolio. Allora, il petrolio, siamo in stagionalità short, vedete? Questa era l'ingresso e questa è l'uscita. Questo è uno spread, adesso andiamo a vedere il backtesting, ma è uno spread che negli ultimi 10-15 anni si è comportato piuttosto bene, ma vedete che è uno spread che durante la stagionalità, guardate la linea blu e rossa, si muove molto, ok? E tende poi a scendere nella seconda parte, ci stiamo avvicinando alla seconda parte. Però vedete che anche le medie in questa finestra temporale qui, vedete come si muovono in maniera nervosa, no? Ed è esattamente quello che sta succedendo, perché lo spread ha toccato questa struttura, si era infilato dentro questo canale, adesso ha rotto questo canale. Bene, questo era il prezzo d'ingresso e praticamente siamo quasi arrivati al prezzo d'ingresso. Io vorrei provare ad entrare con questo spread qua, su questi valori qua, ok? Quindi stiamo intorno ai meno 35, quindi andiamo a vedere questo spread quanto è giugno-luglio, per vedere come costruirlo. Quindi CL, no, facciamo così, creiamoci la nostra finestra di combo, vi faccio vedere come si inserisce a mercato. Quindi andiamo su pair or leg, CL, abbiamo detto giugno-luglio, sta caricando, eccolo qui, il mio crude oil, giugno e poi ancora abbiamo detto la gamba di luglio. Quindi andiamoci a caricare il future di luglio. Devo fare clic su more, entrare qui e abbiamo detto giugno-luglio. Eccolo qui, faccio clic su ok, mi si apre lo spread. Siamo a 0,40, quindi quello che posso fare è mettere un sell, sell limit, a 0-035. Ok? In modo tale da essere eseguito nel momento in cui il prezzo arriva lì. Ma se dovesse salire il prezzo, quello che vorrei fare è aggiungere dei contratti, perché considerate che se da qui dovesse arrivarmi intorno a 0, quindi questa distanza qui, sono circa 140 dollari. Rispetto al mio profilo di rischio è un profilo di rischio ancora accettabile. Quindi la mia intenzione è quella di arrivati intorno, in prossimità dello 0 come prezzo. Quindi che cosa vuol dire 0, ragazzi? Se lo spread è una differenza. 0 vuol dire che la differenza tra il contratto di giugno e di luglio è uguale a 0. Questo vuol dire avere uno spread dal prezzo 0. E quindi quella di aggiungere contratti leggermente sotto lo 0, magari a meno 0,1 potrebbe essere. Quindi entro qui con un contratto con l'idea di aggiungere i contratti più in alto. Staremo a vedere quando entrano, vi faccio sapere con un update sul video. Ragazzi, come al solito, seguitemi anche su Instagram e sul canale Facebook, perché lì sopra pubblicherò gli update più puntuali che su Facebook. Quindi se volete rimanere sempre aggiornati in maniera costante. Un like se questo video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale anche per sapere ogni volta pubblico un nuovo video e cliccate sull'icona campanellina. Quindi una volta che vi siete iscritti sul canale, cliccate anche sull'icona che vedete a forma di allarme, di campanella, perché quello vi permette a YouTube di avvisarvi ogni volta nel mio canale pubblico un nuovo contenuto. Grazie mille per l'attenzione, buon trading a tutti, ciao!